il libro etna i vini del vulcano per me una sintesi di anni e anni di lavoro in questo territorio nel territorio etneo perché il vino ha bisogno di storia ha bisogno di cultura perché il vino è prima di tutto storia e cultura prima di essere un prodotto agricolo riferimento principale è quella della scoperta di questa maestranza la maestranza dei vigneri fondata nel 1435 a catania e questa maestranza appuntava tutto chiaramente sul lavoro manuale e quindi sul fatto che chi voleva imparare a diventare viticoltore a diventare vignere doveva in qualche modo vivere questa situazione quindi non era solo un lavoro ma era anche un modo di vivere il viticoltore vignere già nel 1435 ma in parte anche dal 2000 sa che prima di fare un impianto di un vigneto deve costruire una terrazza quindi deve essere anche un costruttore di paesaggi il viticoltore ha dovuto fare i conti anche con un altro aspetto fondamentale del vulcano etna vulcano più alto d'europa che quello dell'eruzione vulcanica talvolta drammatici in un certo senso ma il viticoltore etneo sa che quella che è una forza distruttrice poi diventa anche una generatrice attraverso le coltivazioni che poi lui ripone spesso nello stesso posto in cui sono state coperte dalle colate lavori l'alberello di per sé è un concetto di coltivazione della vite molto interessante soprattutto sul letto significa che far produrre poca uva per vite circa un chilo ma si capisce nella quantità di viti per ettaro si può arrivare benissimo anche a 9.000 kg e 10.000 kg è ovvio che questo però prevede che ci sia un investimento in mano d'opera professionale molto elevata e questo fa sì che il viticoltore con la vite entra quasi in un rapporto intimo no certe volte di odio ma certe volte anche di amore quando tu nel tuo obiettivo produttivo quello che fai metti il rispetto del territorio e rispetto delle persone in fondo stai cercando di creare come dire un ambiente più umano e quindi per noi i nostri vini prima che naturale prima che tecnologico prima che buoni devono essere dei vini umani qualche lo qualche cento può essere perché magari quando fa un buco capiste è un lavoro duro sacrificio perché qui abbiamo anche il clima di eccessi un clima di troppo caldo o di troppo freddo e lavorando esternamente è ovvio che la persona ne risente di questo però poi tutto diciamo si dimentica diventa qualcosa di importante di bello nel momento in cui arriva la vendetta quindi il palmento è il cuore potremmo dire pulsante di questa trasformazione di questa continuità viticola attraverso la produzione del vino gli enolici potremmo dire antichi che hanno concepito il palmento hanno capito bene anche come adeguarlo alle situazioni viticoli del territorio etneo anche da un punto di vista diciamo strutturale oltre l'utilizzo della pieta lavica del cocciopesto che si possono considerare dei materiali proprio di origine romana quindi un passato etneo che da un punto di vista vitivinicolo veramente ha una grandissima storia la viticoltura sull'etna ha avuto un crollo drastico perché non era più competitiva dal punto di vista economico è grande e forte l'azione di rapina se volete di nuova colonizzazione che arriva solo per produrre ai fini economici e basta e l'etna ha bisogno di questa conservazione perché comunque è un ambiente molto delicato molto debole la mia famiglia mi ha dato due grandi opportunità che sono quelle di aver studiato fuori ma allo stesso tempo anche la grande possibilità di poter rientrare qui in Sicilia e quindi lavorare per la mia terra e soprattutto per la mia famiglia sono contento che papà è riuscito a trasmettermi la sua passione che oggi è diventata la nostra passione il nostro lavoro ma soprattutto la mia vita siamo in un momento storico in cui oggi l'uomo ha la possibilità di scegliere è importante e fondamentale che ognuno dedichi una piccola parte della sua vita di produttore etneo a una ripresa di quelli che sono questi sistemi antichi per preservare e custodire queste risorse umane, queste conoscenze umane che altrimenti andrebbero perse per sempre a una ripresa di quelli che sono stati a trasmettermi la mia famiglia a una ripresa di quelli che sono stati a trasmettermi la mia famiglia a una ripresa di che sono stati a trasmettermi la mia famiglia a una ripresa di che sono stati a trasmettermi la mia famiglia